e multinazionali che fanno parte della nuova via della seta, è riuscito a finire... Poi il momento del ballo, con la partecipazione del ballerino cinese Liu Yuyan, artista più seguito del web. Si contano oltre 20 milioni di followers, in pratica è il personaggio più seguito del pianeta. Liu ha creato delle situazioni artistiche notevoli che hanno lasciato il pubblico in sala senza piatto. Grazie. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti.